We need to collect two notebooks for even YouTube or... Oh ma sta succedendo! Oh ma io tu! It's my... It's my... It's my... Salve a tutti ragazzi e ragazze trans e benvenuti su questo nuovo video e oggi siamo su Pelati Simulator 2020. Non è vero, non siamo su Pelati Simulator. Che gioco è questo? Baldi's Basics in Education and Learning. In inglezza è sempre più alto quell'altro. Vabbè, Story Mod... Va bene. Grazie. C'è questo Baldi che continua a fissarmi malamente. E togliamo la musica perché mi sta già andando sui nervi. Ok, allora, a quanto pare... Intanto tanto... Intanto la visuale, se giro il mouse succede questo. Mamma mia... C'è una porta qua. Ah, la posso aprire? Cos'è sta roba? C'è un chewing gum masticato tizio. Ah no, era un libro. E' una mia impressione a due meno sette non si può fare. Cazzo metto? Due meno sette? Ehm... Meno... Meno qualcosa... Forse meno... Meno quattro! Mamma mia... Eh... Ma Baldi... Meno... Quei cazzo... Due meno sette non si può fare. Baldi, è inutile che ti incazzi. Cosa sta succedendo? Ma mi aiuto! Sento... Cose! Ma c'è un'altra... Aiuto! Ma ragazzi, ma che cazzo di gioco è? Cosa è sta roba? Cosa sta succedendo? Ho messo a caso. E' ovvio che sbaglio. Non lo sapevo. Il tizio mi aveva detto che aveva bisogno di due notebook per andare qui. Prima ci posso andare. Cosa sta... Cos'è? Si sta scheggiando del legno? Cos'è un attimo? Oh, porca puttana! Che cazzo sei tu? Oh! Che... Oh! Aiuto! Ah, devo... Saltare! Aiuto! Chi è questo? Hanno quello di prima! Mi hai incazzato! Mi hai incazzato! Corri! Un soldo! Cosa stava succedendo? Via! Oh mio di... Ragazzi, io ho la pene d'oca in questo momento. Oh cazzo. Ho bisogno di resto. Esco subito! Esco subito! Esco! Non c'è bisogno. Iiii! Ma basta! Cazzo! Ma chi è questo? Oh! Oh! Aiuto! Aiuto ragazzi! Non so cosa sta succedendo! Che cazzo sei tu? Cosa sta succedendo? Ah! Aiuto! Che cazzo è successo? Non sto capendo niente! Ma che gioco è? Cosa sta... Dove sono? Esco! Sei rimasto in punizione... Posso uscire adesso? Ah! Ma che è sto rumore? Ah! Forse è... Il tizio che mi sta venendo a prendere? Iiii! Basta iii! Ma levati dai coglioni! Deja vu! I've just been in this place before! Higher on the street! And I know it's my time to go! Go in in blue! Vai via! Raga, giuro che non sto capendo cosa sta succedendo! Cosa succede YouTube? E' zonato! Fangirl! Un altro taccuino! Però questo è disegnato Ah no! Non è un taccuino! PSODA! Cazzo ci devo farlo? Me la bevo! Non la fa bene, ma l'altro taccuino! Cos'è sta roba? Ciaooo! Cosa sta succedendo? Ah con questo lo mando via Io sono rimasto pure a guardare Davvero genio Esci fuori Qua dentro Un altro tacquino Prendilo Quindi il mio scopo è raccogliere tutti i tacquini Sì però che cazzo 3-5 Come lo faccio 3-5 Faccio 2-1 Giusto Sto provando a fare Meno Meno 2 Cazzo c'è Un errore Ha funzionato Non ci posso credere Meno 1 Ok E questo non ci posso fare Bene ragazzi Nei primi 5 secondi Non ho capito nulla Come tutti gli altri giochi E c'è C'è un'ansia terribile Tipo se riesco da qua Oh mamma mia C'è una parte al buio Che cazzo Ho avuto Alla spiegare Oddio Vai via Vate retro E mo' Sono riuscito A chiudere tutto Ragazzi Io Non ho capito assolutamente Niente Ma zero Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel mi piace Datele una bella menata E noi come al solito Ci vediamo Ad un prossimo video Bella Ad un prossimo video